Nel anno del 2014 abbiamo iniziato un progetto che si tratta di reintegrare le persone nel mercato laborale e di portare a chi si tratta nel mercato laborale. Nel anno del 2014 abbiamo iniziato a reintegrare più di 250 persone nel mercato laborale e le persone si tratta di ricevere un mercato di 400, 500, 600 florini e ogni anno ha un salario di circa 1.800, 2.000, magari più. La metà principale è la partecipazione. Abbiamo chiesto di più persone a partecipare nel mercato laborale. Nel momento in cui si tratta di 400 persone che si tratta di meno di base, che si tratta di meno di 4 milioni che si tratta di un anno di base, che ci sono le persone che non sono lavorando in questo momento. Abbiamo insieme alla BANDA 16 con le entrate che ci sono ricevuti come salario, che non si tratta di imposto a fare, che si tratta di consumo, e che non si tratta di rendere parte del governo e anche della nostra economia. E' stato un programma che sta andando. Nostra banda di Esaki, dopo di organizzare l'Expo Laborna, dove ci invitano una gran quantità di persone. Ci sono persone che vengono, sondano, orientano per un lavoro. Noi stanno guardando il risultato di Esaki, noi stanno ricevendo il risultato di gente che attende e che realmente c'è un lavoro. Banda di Esaki è un desemplare, naturalmente, ma stiamo continuando a stimolare la valentia, stiamo a stimolare la gente per partecipare nel mercato laborale, creare una stabilità finanziaria per un mese, creare un nuovo network per creare il motore, e ci sono un momento in cui noi stiamo a guardare che è successo. Un altro aspetto, naturalmente, che si tratta di concentrare, è l'aspetto di esemplare di giovani. La cifra di esemplare di giovani è più alta che sono di adulti, che è conforme al standard internazionale, e ci sono un enfoce primordiale anche per i giovani qui, per arrivare in un lavoro. Naturalmente, ci sono stati stimolati i giovani per l'estudio più lungo, ci sono stati donavano più opportunità mangiare in un lavoro fisico, però, per mezzo di banterà, ci sono stati che non si tratta di aiutare in un lavoro. Il nostro premio è stato un annuncio di settimana passata di rifineria, che ci sono stati un impulso ancora più grande del mercato laborale, che non si tratta di un altro settore che non c'è un lavoro, ma che può contribuire nel rispetto di rifineria, ci sono stati un'opportunità più grande. Il nostro progetto è continuato con il nostro piano di 400 persone, meno che sta ricevendo un bel stand, per il motivo che il lavoro è reintegrava in un lavoro. Grazie.